Buonasera ragazzi, si parte con il commento di Verona Milan, in questo momento i rossoneri stanno vincendo 2-1 al Bente Godi con questo gol che è arrivato nel finale da parte di Sandro Tonali, gol di una pesantezza unica, gol di una importanza colossale per i rossoneri la partita non è ancora finita, siamo partiti con il commento ma se dovessero esserci aggiornamenti poi li commenteremo insieme allora Milan che ha giocato in totale una partita di certo non spettacolare, probabilmente è stata una delle versioni peggiori del Milan in campionato fino a questo momento, molta confusione, tanti spazi tra i reparti, evidentemente il settaggio iniziale della squadra di Stefano Pioli non è stato eccellente c'è anche da dire che il Milan ha avuto dopo 10 minuti l'occasione di segnare il secondo gol con Giroud se Giroud butta dentro la palla del 2-0 dopo 10 minuti la partita finisce o quasi o comunque va ad incanalarsi nei binari giusti per il Milan intanto serie di batti e ribatti in area di rigore rossonera, salvataggi sulla linea, insomma davvero una situazione di grande pericolo per il Milan che sta soffrendo fino alla fine. Ribadiamo un attimo come si è sviluppata la situazione in questa fase di commento poi alla fine parleremo del triplice fischio finale. Allora, Milan che passa avanti con questa gran bella azione di Leao che salta tutti, arriva sul fondo, mette la palla al centro e praticamente poi c'è l'autogol da parte di Veloso Milan che va subito in vantaggio. Dopo poco c'è l'opportunità di passare sul 2-0, bellissima palla di Ibrahim per Giroud tutto solo davanti a Montipò, Giroud nulla butta dentro e quella è un'occasione troppo importante per essere sprecata è un'occasione davvero importantissima. Poi il Verona praticamente trova il pareggio su un autogol da parte di Gabbia che si butta la palla in rete però alla fine il gol la Lega lo assegna a Gunter per l'1-1. Da lì inizia una partita di confusione inizia una partita molto strana perché il Milan cambia tanto anche a livello di modulo, di assetto il Milan cambia moltissimo anche tra i vari reparti come ad esempio Teva Hernandez che da terzino lo si vede addirittura al centrocampo o in fase offensiva ad lì che arretra ma inizialmente parte come trequartista insomma abbastanza confusione. Serie di cambi, esce Adli insieme a Krunic al sessantesimo per Benasser e Pobega e da quando entra Benasser la squadra ottiene un po' più di equilibrio. C'è da dire che a inizio ripresa al 45esimo, al primo minuto del secondo tempo entrano invece sia Rebic che Origi al posto di Giroud molto stanco e al posto di Brahim. C'è da dire che anche Rebic e Origi hanno avuto diverse occasioni per buttarla dentro, ne ho segnate almeno tre. C'è un'occasione di Rebic dove para Montipò su questo tiro al 49esimo, poi c'è al 79esimo una conclusione dalla distanza da parte di Origi che finisce a lato e poi prima ancora al 75esimo c'è un colpo di testa da parte di Rebic che viene sventato da Montipò. Quindi hanno creato occasioni Rebic e Origi. Ma il gol del 2-1, diciamo il gol pesantissimo, arriva all'81esimo grazie a Tonali. Sandro Tonali che si sblocca, si sblocca proprio al Bentegodi, come era successo l'anno scorso dove aveva segnato una doppietta. è uno stadio che gli porta molta fortuna. L'anno scorso sono stati due gol che hanno poi regalato al Milan la possibilità di vincere lo Scudetto e che hanno poi concesso al Milan di proseguire la corsa verso lo Scudetto. Quest'anno un gol importantissimo perché ha segnato il 2-1 dei rossonieri. Siamo al 93esimo, mancano due minuti di recupero perché l'arbitro ha segnato 5 minuti totali, quindi resteremo insieme almeno per altri due minuti per commentare questo Verona-Milan importantissimo perché hanno vinto tutte le altre, ha vinto l'Inter, ha vinto la Juventus, ha vinto il Napoli. Ecco, il Milan non può mancare la vittoria ai rossonieri questa sera. Una gara, ripeto, molto molto insidiosa. Non mi aspettavo un Verona così anche ben messo in campo da parte di Bocchetti, che tra l'altro è alla sua prima panchina in Serie A, guarda caso contro il Milan dove lui aveva anche giocato da ex. Ritorniamo al gol di Sandro Tonali. Che importanza ha questo gol? Un gol fondamentale perché tutto parte da una ripartenza con Leao che la dà a Rebici sulla destra, cross al centro, Tonali freddissimo in area di rigore con i famosi inserimenti come li vuole Stefano Pioli, con i famosi inserimenti come è successo l'anno scorso proprio qui a Verona e segna il 2-1. Nel finale entra anche Malik Cho, quindi non c'è solamente l'esordio di... non c'è solamente... tra l'altro ha anche avuto un'altra occasione da gol per il 3-1 finale al 94esimo e 20 secondi Sandro Tonali. Chiusa parentesi, c'è stato non solo l'esordio dal primo minuto di Adli, prova non molto convincente, ma all'86esimo è entrato in campo anche Malik Cho. Esordio assoluto per lui e il primo intervento Cho lo fa salvando la porta del Miana con un intervento proprio a gamba tesa così, proprio per evitare la conclusione in porta e quindi praticamente il Milan si salva grazie a questo intervento di Malik Cho. Mancano 5 secondi alla fine della partita, noi continuiamo nel commento, poi lo commenteremo insieme, il fischio finale, mancano davvero pochissimi secondi, vediamo se l'arbitro fischia la fine di questa partita. Milan che sta vincendo 2-1 in casa del Verona, gara infinita, siamo oltre i 5 minuti di recupero, gara molto sofferta. Ripeto, secondo me non è stata una gara ben interpretata dei rossoneri perché a livello tattico ci è stata molta confusione. Poco equilibrio oserei dire, soprattutto nella formazione iniziale che ha schierato Pioli, poi successivamente corretta in corso d'opera con l'inserimento anche di Orighi e Rebic. E finisce qui, finisce qui, 2-1 per il Milan, 3 punti soffertissimi, 3 punti meritati per lo sforzo finale che ha compiuto il Milan per riuscire a vincere questa partita, decisivo ancora una volta Sandro Tonali a Verona, decisivo ancora una volta il centrocampista cuore rossonero Sandro Tonali al Bente Godi con un gol di straordinaria importanza per la classifica per i tre punti perché questa partita era ed è stata una partita molto complicata per i rossoneri. Il Milan batte il Verona 2-1 grazie all'autogol di Veloso, poi c'è stato il pareggio di Gunter su autogol di Gabbia e poi nel finale Sandro Tonali fa respirare il Milan, tre punti importanti in una partita che non è stata proprio ben giocata dai rossoneri.